Prova della Home Reaper Master System River Strike versione 0.10 Rispetto alla 0.7 da me precedentemente provata, è cambiata la schermata del titolo, sono stati risolti alcuni problemi e ci possono essere più nemici contemporaneamente nello schermo. Ho notato, o almeno mi è sembrato di notare, che anche i rallentamenti siano di meno rispetto alla versione precedente. Quindi le modifiche apportate per ora mi sembra che vadano nella direzione giusta, anche se credo che il prodotto non sia ancora terminato. In descrizione c'è il link per scaricare questa versione, che è un forum del sito SMS Power. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.